nella gamma delle macchine bravo troviamo anche il montapanna il mini top abbiamo una macchina che ha la possibilità di erogare la panna come noi vogliamo possiamo erogarla in questo modo quindi dosare con un tasto stampo la nostra quantità oppure ha la possibilità di lavorare in modalità continuo in questo modo in modalità continuo o in modalità start quindi che scegliamo noi la quantità possiamo regolare anche la reazione della panna all'interno abbiamo un dosatore che ci indica da 1 a 9 la possibilità di areare la nostra panna quindi uno significa che abbiamo una panna molto areata 9 significa che abbiamo una panna molto più liquida se noi dovessimo fare delle ganache o delle patabombo delle meringhe da emozionare alla nostra ricetta come vedete le consistenze sono diverse una panna molto più areata l'altra meno areata per l'utilizzo in pasticceria per realizzazione di torte mousse e freddi come abbiamo detto prima